Nome. Nicola Edginton. Numero vittime. 2. Modus operandi. Accoltellamento. Nicola Edginton nasce nel 1980 in Inghilterra. Si rivela violenta già dall'infanzia, infatti era molto aggressiva e usava spesso la violenza contro il suo fratellino e, addirittura, contro sua madre. Spesso si dedicava anche a furti. La causa scatenante, da come ha raccontato al processo, sembrerebbe arrivare da un abuso sessuale da parte del padre quando era ancora piccola. Ma di questo non ci sono prove o testimonianze. Più volte i genitori hanno dovuto adottare misure estreme per il suo comportamento aggressivo, come chiedere aiuto a degli psichiatri che, una volta visitata, la obbligarono a vari ricoveri ospedalieri. Nel corso della sua vita ha svolto diversi lavori, come parrucchiera e commessa, ma secondo le indagini, Edginton era anche una spacciatrice e prostituta. All'età di 17 anni, Nicola ha abortito due gemelli dopo essere stata presa a pugni nello stomaco da un fidanzato violento, e a 19 anni era di nuovo incinta, da un fidanzato spacciatore, e ha dato alla luce un figlio di tre mesi prematuramente. È stata Marion, la madre di Nicola, ad aiutare la figlia a prendersi cura del bambino, fino a quando Marion, esausta, non ha affidato il bambino ai servizi sociali. Non passò molto tempo che Nicola si sposò con un uomo giamaicano, con il quale ebbe due figli. Ma il matrimonio, per motivi sconosciuti, è finito e il marito, consapevole dell'instabilità della moglie, portò i figli con lui in Giamaica. Questo fu l'ennesimo duro colpo nella triste vita di Nicola. Un colpo fatale per la sua fragile psiche. È il 4 novembre 2005. Marion, la madre di Nicola, fu pugnalata a morte ben nove volte proprio dalla figlia. Arrestata, fu processata però per omicidio colposo, a causa della sua diagnosticata schizofrenia e tratti di personalità emotivamente instabili. In seguito a trattamento e valutazione psichiatrica, è stata rilasciata nel settembre 2009, trasferendosi in un appartamento di Greenwich. La situazione non era cambiata però. Nel settembre 2011, Edginton ha inviato un messaggio tramite Facebook a suo fratello dicendo che non stava ottenendo l'aiuto di cui aveva bisogno, che le mancava sua madre e aveva avuto un aborto spontaneo. Ha lasciato il suo numero di telefono e gli ha chiesto di non dire al padre. Ma il fratello, comprensibilmente, non l'ha presa bene e le ha risposto che dovrebbe suicidarsi tagliandosi i polsi. Abbandonata da tutti, Nicola chiese aiuto alla chiesa del luogo. Ma neanche questo servì. Era sempre più folle. Sentiva le voci ed era convinta che tutti la odiassero. Dal 6 al 9 ottobre 2011 chiamò assiduamente la polizia riferendo che delle persone stavano facendo minacce di morte contro di lei e che degli spacciatori di cocaina non volevano andarsene dal suo appartamento. Ma nessun poliziotto è stato mandato ad indagare. La mattina del 10 ottobre ripartono le chiamate alla polizia e ai servizi sociali, implorando di aiutarla in qualunque modo poiché sentiva che stava per avere un altro esaurimento psicotico. Allora la polizia decise di intervenire. L'accompagnarono all'ospedale psichiatrico dove fu fatta accomodare nel mentre i medici preparavano le carte per un ricovero. Fu proprio durante quel momento che la donna decise, però, di andarsene, scappando da una porta di sicurezza. Prese un autobus e accoltellò due sconosciuti per strada in attacchi separati. Più folle che mai, tentò poi di uccidere un'altra persona, Carrie Clark di 22 anni, che nella colluttazione riuscì a toglierle il coltello dalle mani. La pazza fuggì ed entrò in una macelleria, dove rubò un coltello. Uscì ed incontrò Sally Udokin di 58 anni, la prima persona casuale che sfortunatamente passava di lì. Nicola la pugnalò a morte, lasciandola agonizzante in una pozza di sangue in strada. La donna morì poco dopo i minuti. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza, dal furto del coltello nella macelleria al momento in cui fugge dopo l'uccisione di Sally. Così, Edginton fu arrestata subito dopo l'attacco. Il quadro psichiatrico era allarmante. Secondo gli psichiatri, Edginton soffriva di deliri paranoici e allucinazioni, con un sottotesto religioso. Credeva che un mostro con cento occhi stesse proteggendo il trono di Dio dai nemici. Vedeva, nei negozi della città, delle stanze per le torture. Credeva che Gesù fosse tornato per salvare tutte le anime, tranne la sua. Sentiva anche di essere in una simulazione al computer e aveva varie convinzioni bizzarre relative a personaggi e film famosi. Il 4 marzo 2013, considerata fortemente instabile di mente e un pericolo per la società, Nicola Edginton è stata condannata all'ergastolo.